Abbiamo festeggiato il Super, noi festeggiamo Vincenzo, perché ieri Rocca è testimone, abbiamo fatto una bella riunione che è durata qualche ora in più, un'ora in più rispetto a tre viste, ieri ho ricordato a me stesso e agli amici di questo, che qualcuno perde la bussola in questo paese. L'amministrazione è bella che dobbiamo fare, l'amministrazione non solo del cambio aereo, ma della capacità, dell'onestà e della propensione al lavoro, della voglia di lavorare, tutti insieme come siamo qua, sarà l'amministrazione di tutti, ovviamente il ruolo ci deve essere e noi siamo pronti a stare insieme per 5 anni e ad amministrare questo vese ha cambiato, all'insegna della buona amministrazione. Quindi possiamo fare l'applauso a questa borsa. Applausi. Voglio aggiungere una cosa, devo ringraziare quelli che hanno fatto una bellissima torta per me, ma non è una capacità di benevolenza, non è una forza dura. Ma ieri l'abbiamo detto chiaramente che si è creato un binomio e che dopo 4-5 giorni non si continuano appunto di partenza, perché dalla coalizione si può passare la prena, tanto ma solo è solo per la rimozione di alcuni punti che ha risalto di questa pandemia. i punti fissi sono i punti fissi. Grazie. Grazie. Grazie.